C'è di tutto nello stomaco della tartaruga marina ritrovata a morta lo scorso 29 gennaio a Marina di Camerota nel Cilento, lungo l'elenco di rifiuti ingeriti dal maschio adulto di Caretta Caretta, una della specie simbolo del mare della campagna. Infatti l'esito dell'autopsia realizzata dal team dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con l'Anton Dorn ne ha accertato la causa di morte per ingestione di plastica che la Caretta Caretta avrebbe scambiato per calamari e meduse, costandole così la vita. La tartaruga aveva ingerito un'etichetta proveniente dall'Algeria, bicchieri in plastica, una confezione di M&M's e sette dei famosi dischetti del depuratore di Capaccio Pestumo fuoriusciti lo scorso marzo in seguito al cedimento di una vasca dell'impianto di depurazione della foce del Sele. Dopo due casi in Francia, questo è il primo caso di rinvenimento dei dischetti in animali marini in Campania. Grazie all'azione dei volontari ne sono stati raccolti oltre 160.000, ma ce ne sono ancora milioni in giro, trascinati dalle correnti. Purtroppo quello dell'inquinamento da micro e macro plastiche rilasciate nei mari rappresenta una grave minaccia per questi animali e non solo, che spesso vengono recuperati dai pescatori e poi liberati in acqua. L'ingestione di plastica infatti rappresenta la minaccia maggiore per la sopravvivenza delle tartarughe marine. Secondo uno studio dell'Università di Siena, eseguito su oltre 560 esemplari di tartaruga caretta caretta, l'80% degli animali esaminati ha ingerito rifiuti di questo materiale, con conseguenze spesso nefaste. A tal proposito diversi comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni stanno mettendo al bando la plastica, con azioni volte a sostituire la plastica con vetro o prodotti biodegradabili. Tant'è che anche la pagina tartarughe marine in Campania invita a scegliere di non usare plastica, rifiutare le cannucce al bar, scegliere le eco ricariche, i piatti in ceramica, i bicchieri di vetro e se non è possibile la carta. Intanto, rabbia e sgomento sui social per quanto accaduto alla tartaruga ritrovata a Camerota, abbiamo sicuramente contribuito alla sua morte. È ora di passare all'azione partendo da piccoli gesti, quali preferire il bicchiere in vetro quando prendiamo un caffè, le bottiglie d'acqua in vetro e rifiutare le cannucce nei cocktail. Le cicche vanno nel posacenere, non nella sabbia. Siate parte del cambiamento, si legge in un post su Facebook. Grazie a tutti.